buongiorno a tutti benvenuti in questo quello che faremo oggi però anche nei prossimi episodi è sopravvivenza si pianta troppo facile campione mi fanno il culo facciamo a veterano salta oltre vabbè questa è la versione di prova quindi non ho ancora comprato quella da 20 da 40 euro con più cose quindi per adesso sperando perché spero mettere a posto un po di cosa che sta cacchio di xbox one però vabbè ripeteremo un ciago rocco il nostro obiettivo sarà quello di battere i primi sette non farci fare il culo e tentare di vincere eccoci se posso arrivare a 10 meglio però vabbè questa è la mia terza partita quindi non sono proprio sotto donna 4.9 ora accetto la legge vabbè 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 13 14 14 14 16 14 14 14 16 14 16 15 15 16 17 18 18 15 15 16 fai ok allora è la prima andata si perdevo la ricominciata farei due tentativi a puntata vedo che sta andando bene quindi ci va avanti eccoci mettere dentro un ultra magari sarebbe anche meglio però non so come si fa perfetto dai con sta spada e stanno sulle ballerane quindi fai schifo valutina vestata non mi va sulla vita e c'è ancora ma va fa un culo ti lo mandava sulla vita questo c'è ancora un bagno il tot me l'ha dato però sta venendo un dubbio ma è già passato sto tentando di non spiazzare no ho qui i tasti a calcolo vabbè si non l'ho presa però vabbè si 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 ecco la è pericolo che cazzo faccio fare l'ultimo ma 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 madonna oh no oh 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 guarda ma no oh ma com'è no si si madonna 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 sta bastarda schifosa ragnatele di merda io derby e qua c'è il derby e qua mi sa che vince giago, non vorrei però e qua vince giago quindi qua anche se perdo vado avanti io stesso sono sempre io ma che mi copia la mossa? a strunzo a ver oh no eh eh oh no 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 schifoso lurido quanto di merda no cos'è? capo un altro, un altro, un altro, un altro, un altro, dai dai dai, 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 no no e certo nooo fatti picchiare peggio di schifoso duridissimo figlio di madonna ciaffo eh ma non così ciaffo no 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 meno pareggio maniglio meno pareggio maniglio meno pareggio maniglio non mi salt tanta ma si è morto mi sa che sono morto mi sa che son morto mi sa che son morto non mi sa che son morto no sono lì Cosa ho fatto? Pari, 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 pari C'è il pareggio Non posso fare il continuo? No! Chi posso? No! 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 Teso io, teso io Teso io, teso io Teso io, teso io No! Stardo! Gulido Ciappa, ciappa, ciappa Quai! Cantilli La calmezza No! L'ho fatto io, l'ho fatto io, l'ho bloccato Combo, co, co, co Fai Buttaci l'ultra Come si fa? No! No! Ho perso No! Non ho venuto Non ho venuto Non ho venuto No! No! E vaffanculo Cristo! E dai, sono finito tre Sono finito tre Poteva andare anche peggio Chiedevo di no Oh, fermi tutto Chi è? Chi è? No! E l'ho messo Perfetto! Allora Il mio primo video Sono un po' Spaisato Cosa fare di qua di là Però Credo sia andato un po' bene Qua come cazzo Si fa stoppare adesso Così Adesso con una mano Devo stoppare L'audio Con l'altra Devo stoppare il video Quindi Sarà un po' di Allora Vi saluto intanto Spero di continuare a fare Questa serie Microsoft Metti opposto Metti opposto Metti opposto Quello che hai fatto? Cazza la miseria Schifone Niente Vi saluto Ci vediamo al secondo episodio Io tenterò di arrivare almeno a battere Tutti I Sette 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 sei personaggi Tanti E gli tenterà di arrivare a 10 Vittorie consecutive In modalità per sopravvivenza Detto questo Ci vediamo alla prossima Avrei anche già in mente di fare Un'altra serie diversa di video Forse domani Nei prossimi giorni E niente Vi saluto Adesso Stoppaprima Boo Ciao a tutti E buon possibilmente giornata